Massimo Sensini di Vettro Ventilati di Forlì, un'azienda che si occupa di innovazione in questo settore, in che modo? Facciamo impianti abbastanza evoluti legati a dei concetti nuovi di comfort e risparmio energetico. Qui in fiera per incontrare operatori dai paesi del Golfo Arabo, come sta andando? È molto interessante, trovo che l'organizzazione sta andando avanti in modo oltre che accogliente, anche efficiente, e per noi è una bella opportunità vicino a casa. Ormai l'internazionalizzazione è una strada obbligata per le aziende, lo si dice da un po' di anni? È così? Assolutamente, in Italia si muove poco, mentre in quelle zone invece ancora c'è abbastanza di vacità, speriamo di cogliere un po' l'onda. Dopo questi incontri cosa farete seguire? Dei contatti più approfonditi? Assolutamente, faremo dei report e manderemo con i mezzi di internet delle presentazioni più approfondite, abbiamo già avuto richieste di progetti e speriamo di concretizzarlo in dei modi anche a breve scadenza.